Hello folks! Today I'm with Dr. Ruberto Saldi and Gina. We will watch a Postural Rehab Messier. Rieducazione Posturale, Metodo Messier. Enjoy! Grazie a tutti! 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 E fuori tutto. Ancora. Fuori, 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 fuori. Forza un po' di più l'espirazione. Fuori, fuori, fuori. Ancora. Fuori, fuori. 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 Fuori. Dove senti tirare? Devevi andare? Ok. Grazie. 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 Un altro passo. Grazie. 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 Sicuramente tutto a posto, sì? Riesce a ruotare un pochino di più i soldi aumentati. Fantastico. Grazie. 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 E brava, brava Gino.